Qualcuno ha mai pianto tagliando dei pomodori? Solo le cipolle, è vero? Penso che nella vita potrei fare le scaloppine. Quando ho detto fai questo disco da solo e io non so stare solo, non cucino neanche quando sono solo. La verità è che mi sento molto solo, sono qua in fronte alle luci azzure del tabaccaio, non ho neanche mai fumato la paglia, che cazzo sta facendo qua? Loro ho chiamato tanti amici perché le cantassero loro, perché mi vergogno molto. Tanto adesso poi arriva Nicola e io cucino e lui di fianco mi parla di me. Ciao, io sono Nicola. Il disco di logo è... Sono curioso, no? Ancora lo stai dire? E' un disco che ti porta lontano. Sì, è un disco così che ti toglie quel poco di voglia di vivere che ancora ti rimaneva dopo due mesi di lockdown e cinque di ragione a colori. Un disco giusto per questo periodo, secondo me, in cui stiamo molto bene. Sì! Diciamo che questo disco è un po' la versione musical di Memorie dal sottosuono di Dostoevsky. Ma secondo te... Perchè uno deve ascoltare quel disco? Perché è corto. Sono cinque canzoni. Cioè alla fine non è che ti parti via tutta la giornata. Ma no. Poi prende gli impegni per il prossimo mese, non è che ti interditi più. Cioè alla fine non è che ti interditi più, non è che ti interditi più.